Le avventure di Ash e dei suoi amici continuano nella regione di Kalos. Battaglie tra nuovi Pokémon. Vai Pikachu, colpisci con Fulmini! Conosceremo nuovi amici. Ci metti sempre l'anima in quello che fai. Voglio diventare un maestro Pokémon. Vedremo nuove evoluzioni. Ma qualcosa non cambierà mai. Preparatevi a bastare dei guai. Guai molto grossi, siamo ladri ma favolosi. Tutto questo ed altro ancora in Pokémon Serie XY, la seconda stagione ad aprile in arrivo su K2.